C'è una frase nel manifesto che mi piace particolarmente e che dice non esiste Milano senza salone e non ci può essere un salone del mobile senza Milano, è una frase perfetta. Al di là che il manifesto è veramente una buona iniziativa, una buona cosa, è un gesto d'affetto nei confronti della città ma è anche un gesto di programmazione e questo è esattamente ciò che noi stiamo andando a cercare e cioè la partecipazione, la partnership verso un futuro di miglioramento. Il bello di Milano in questo momento è che ognuno ha deciso di fare la sua parte. Il salone del mobile lo fa da sempre, lo fa con rinnovato entusiasmo e per cui meglio di così non so, non so come potrebbe essere ma andiamo avanti, andiamo avanti con fiducia, andiamo avanti per i milanesi, per quelli che vengono a Milano e anche per il nostro grande, speciale, a volte un po' complesso paese.